Una passeggiata a natalizia fuori dal comune è quella compiuta da due astronauti statunitensi, Rick Pastracchio e Mick Hopkins, che per la seconda volta sono usciti nello spazio per riparare il sistema di refrigerazione della Stazione Spaziale Internazionale. Le spettacolari immagini sono state ritrasmesse dalla NASA. La stazione sulla quale lavorano i due tecnici venne lanciata nel 1998 ed è funzionante dal novembre del 2000. Il sistema di refrigerazione è fondamentale per il buon funzionamento dei sistemi che regolano la sopravvivenza a bordo. Un'avaria era stata scoperta all'11 dicembre passato, ma non era stata comunque considerata grave per il laboratorio spaziale e orbitante a 420 chilometri di altezza attorno alla Terra.